Mentre sul set in Grecia Florina e sta girando un film muore Gian Maria Volontè, uno degli attori più noti e più importanti del cinema italiano e internazionale. Interprete eclettico, si cimentò in teatro ma anche in televisione, fu protagonista di film di impegno politico ma anche di spaghetti arti western. Di lui è stato detto che rubava l'anima ai suoi personaggi o anche che l'arte si è fatta uomo. È noto per l'interpretazione di alcuni film come Todomodo, la classe operaia va in paradiso, le indagini su un cittadino al di sopra di ogni sospetto ma anche per aver partecipato e per aver acquisito una grande notorietà popolare interpretando alcuni ruoli importanti nei film di Sergio Leone per un pugno di dollari e per qualche dollaro in più. Ma anche il pubblico televisivo ebbe modo di apprezzarlo come protagonista della Certosa di Parma e della vera storia della Signora delle Camellie.